E' un'altra cosa Ci sono dubbiati? A scartit usa. N-a scartit nulla, io penso prima di mine. Hai sa sorghieremo più bene la camera. De ce? Acolo o sa vi fie più bene, hai te rog frumos. Bine, hai. Non stiu prima. Ce n-ai nimic? Cred ca au facet si el in partea el alta. Dasha cricilla. Non ci sono tutti. Poi ci sono subito. Ehi! 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 Fai l'ho. Si non ti senti. Si non ti senti. Si non ti senti. No ti senti. Si non ti senti. Ehi! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.